Il circolo di lega ambiente di Partinico evidenzia con una nota ufficiale che senza alcuna motivazione valida e senza sentire i cittadini l'amministrazione comunale ha deciso di riaprire il centro storico al traffico veicolare annullando di fatto un provvedimento che risaliva al 1990 che era il frutto di tante battaglie di cittadini sensibili all'ambiente. Da un dato del 2009 dell'ACI sulle immatricolazioni a Partinico risultano 24.250 veicoli a fronte di una popolazione di 31.919 abitanti. È come se ogni tre abitanti ci fossero più di due mezzi tra auto, motocicli, bus o autocarri. Legambiente tramite il suo presidente Gino Scasso non vuole polemizzare con i commercianti però certamente la crisi del commercio non dipende dal traffico ma dalla crisi economica che vive la città di Partinico dove però spuntano come funghi tanti supermercati. Non vuole scomodare le cifre denunciate dall'OMS su quanto danno provocano alla salute dei cittadini killer micidiali come il PM10, il benzene, l'anidride solforosa, il biossido di azoto, gli idrocarburi per cui c'è la necessità di politiche che disincentivino l'uso dei veicoli privati in favore del trasporto pubblico con zone pedonali ed altri interventi che mirino alla diminuzione del traffico urbano. In questa direzione vanno la maggior parte delle città in Italia e nel mondo. A Partinico invece come se fossimo la Repubblica delle Banane, scrive Gino Scasso, si va in direzione opposta. Legambiente chiede che finalmente, e c'è un incarico dato all'architetto Tornatore nel 1998, ci sia un piano regolatore del traffico che regolamenti la circolazione veicolare nel centro abitato e che venga ripristinata la chiusura del centro storico al traffico ridando ai cittadini uno spazio di aggregazione in cui muoversi senza respirare aria metifica, senza essere costretti a fare gincane in mezzo alle automobili. Più che aprire il centro al traffico bisogna rivalorizzarlo arredandolo, rendendolo più vivibile e più vivo. Il centro storico non è solo dei commercianti ma di tutti i cittadini. Il circolo di legambiente Kiko Mendes evidenzia che l'amministrazione, che non ha saputo farsi approvare la zona franca che avrebbe potuto essere un buon incentivo allo sviluppo, tira in questo modo fuori la solita bagianata della crisi e apre il centro storico al traffico mentre questo, come tutta la nostra cittadina, vive nell'abbandono e nel degrado.